Non spegnete Pescara Vecchia, la Movida, oggetto di una petizione online su change.org. Dopo l'ultima ordinanza del primo cittadino Carlo Masci che imponeva lo stop alla musica a mezzanotte, scaduto allo scorso 2 aprile, ora si fanno i conti con il Ponte di Pasqua, già magro stando le cancellazioni di chi ha prenotato, ma poi anche consultato, le pagine del meteo. Questa settimana l'ordinanza non la farò, proprio perché l'Arta mi dice che c'è una situazione rientrata quasi nella totalità. Ovviamente bisognerà verificare nel tempo se effettivamente i parametri vengono rispettati, perché se le situazioni rientrano non c'è nessun problema, però il controllo deve essere comunque efficace e teso a garantire il sano divertimento, ma anche il giusto riposo. Le immagini del ragazzo che alle 5 del mattino salta il balcone di casa d'annunzio per riprendere un pallone volato alto durante una partita di calcio hanno fatto il giro del web. Non è facile fare la quadra di ciò che è più utile alla convivenza civile. Il prefetto ha convocato una riunione per la settimana prossima, perché il problema non è soltanto quello del rumore, il problema è anche quello dell'ordine pubblico. Ci sono situazioni che devono essere tenute sotto controllo per far sì che ci sia una movida equilibrata, divertente, ma comunque rispettosa delle regole, perché questo è l'obiettivo che tutti vogliamo cogliere, quello di mantenere una movida, ma che questa movida sia all'interno dei parametri di legge, perché quando i rumori sono troppo elevati e sfiorano il rischio sanitario, quando ci sono fenomeni che scaturiscono in problemi di ordine pubblico, è chiaro che bisogna intervenire per limitare queste situazioni e per azzerarle. Quindi il ragionamento è un ragionamento che tiene conto della movida, ma tiene conto anche delle situazioni collaterali che si creano, cioè il rumore che genera forti disagi nei residenti, possibilità di situazioni criminogene che si verificano o di teppismo, come alcuni episodi a cui abbiamo assistito e che sono stati anche filmati.